Siamo a un gruppo famoso degli anni Sessanta Sto parlando di Procolaro 1 Chi non ricorda A Water Shade of Fate o meglio conosciuta nella versione in italiano Senza Luce Questa qui ma originale è in inglese dei Procolaro in un album, in quell'album incinserò un brano molto particolare ispirato a un sommergibile la situazione di emergenza e il brano si ritrova a Saudi Arabia è un brano bellissimo e ce lo interpreta Fulvio già stai pregando applausi 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti